Buonasera, buonasera a voi. Allora, sono cose che io francamente non riuscirò mai a comprendere. Cosa è successo? È successo che è stata rifiutata ad una delegazione russa, sono stati rifiutati i visti, per poter partecipare a Milano all'Astronautical Congress. Ecco, un qualcosa che io trovo di una follia totale, un qualcosa che non ha né capo né coda, non ha alcun senso, come quello ad esempio di rifiutare agli atleti russi di esibirsi, di rifiutare agli atleti russi di partecipare alle Olimpiadi con la propria bandiera, di rifiutare a studiosi, a filosofi, ad intellettuali russi di poter partecipare ai vari congressi in Italia, ma non solo. Ecco, questo è un qualcosa che francamente io faccio molta, molta fatica a comprendere. Non so voi cosa ne pensate. Quando poi dall'altra parte abbiamo un assassino come Netanyahu, è un paese come Israele che sta sterminando intere popolazioni in vari paesi del Medio Oriente. E lì non c'è nessun intervento da parte delle Nazioni Unite, da parte dell'Unione Europea, a livello di sanzioni, come invece era successo per quanto riguarda il conflitto tra Ucraina e Russia. Ci sono stati poi nei mesi degli episodi che dimostrano l'assoluta intolleranza e stupidità delle persone, no? Tenniste che non stringono la mano ad atlete russe, atleti russi che appunto non possono partecipare, ma quello, voglio dire, di rifiutare il visto a dei funzionari, a dei dirigenti per assistere ad un congresso, questo francamente ha superato, direi, ogni limite. Una notizia che così lascio lì per il vostro commento e per ascoltare voi cosa ne pensate. Io sono rimasto veramente, estremamente nauseato. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.